Il PDL dunque ha detto pancia a terra per recuperare lo svantaggio, tu cosa replichi? Direi che penso sia necessario per loro una ripetizione di matematica e una di statistica perché è vero che al mondo nulla è impossibile e noi non abbiamo mostrato, però per loro recuperare 20 punti sarà difficile